Ciao a tutti, io sono TheWizRaptos19 e oggi parlerò della nuova suite di Microsoft, uscita il 24 settembre 2018. La nuova versione presenta qualche novità e moltissimi miglioramenti. Office 2019 include la maggior parte delle funzionalità introdotte in Office 365 negli ultimi tre anni. Vediamo quindi quali sono le succose novità. Nuovo tema scuro. Dopo molte richieste da parte degli utenti, Microsoft ha finalmente introdotto il tema nero, oltre ai soliti a colori, grigio scuro e bianco. Il nuovo tema è simile al tema scuro presente in Visual Studio, ma senza le icone monocromatiche. Poi bisogna dire che potevano anche rimuovere quello schifo di tema bianco presente da Office 2013, siccome è abbastanza distruttivo per gli occhi. Miglioramento di Telmi. Inserito per la prima volta in Office 2016, questo valido strumento è stato aggiornato. Adesso mostra risultati maggiormente significativi ed è quindi molto più utile. Inserimento avanzato. In Word, Excel, PowerPoint e Outlook adesso si possono inserire anche icone e modelli 3D. Stranamente in Publisher non sono presenti, sebbene sarebbe costato veramente poco aggiungerle al menu Ribbon. Nuovi strumenti di revisione. Esclusivamente i Word hanno inserito la possibilità di far leggere il test all'assistente vocale predefinito. I Word, Excel e PowerPoint hanno aggiunto Microsoft Translator, per tradurre i documenti in maniera più precisa, mentre le restanti applicazioni della suite usano ancora il vecchio metodo integrato. Inspiegabilmente, un'applicazione fondamentale come Outlook non dispone ancora di questa valida funzione. La ricerca intelligente, aggiunta in Office 2016, è semplicemente passata dalla scheda revisione a riferimenti. Nuova scheda guida. In tutte le applicazioni della suite, tranne OneNote, è stata inclusa una nuova scheda per accedere alla guida, al supporto tecnico, ai feedback e alla formazione. Visualizzazione a Libra e Word. In Visualizza hanno aggiunto una nuova modalità di visualizzazione, per scorrere le pagine di un documento proprio come se fosse un libro. Perfezionamento di Excel. In Excel sono state inserite nuove formule grafici. Tra i nuovi grafici possiamo trovare quelli a mappa e a imbuto. Aggiunti tra l'altro anche i Word e Powerpoint. Miglioramenti per Powerpoint. Nelle transizioni hanno aggiunto Morphing, che visualizzano l'animazione più fluida dei contenuti delle diapositive. Poi hanno inserito la possibilità di creare una slide di sommario, per spostarsi velocemente da una diapositiva all'altra, o più semplicemente si possono inserire delle mini anteprime in in un'altra slide. Una funzione che non mi sarei mai aspettato di trovare nella nuova versione di Powerpoint, e registrazione schermo. Certo, potrebbe essere utile poter girare e inserire dei semplici video all'interno delle slide, ma non so quanti utenti lo useranno. Oltretutto, perché mettere questa funzione solo in Powerpoint e non anche i Word? Di sicuro questa funzionalità avrebbe avuto molta più visibilità. Ma forse in futuro? registrazione schermo consente di registrare quanto avviene sullo schermo e persino salvare il video in formato mp4. Ovviamente dispone anche di alcune basilari opzioni di modifica, come Ricolora, Luminosità Contrasto e Modifica Posizione. Inoltre, si può anche tagliare il video proprio come in Movie Maker, impostare una dissolvenza, regolare il volume, inserire delle didascalie e davvero tanto altro. Per l'input penna hanno migliorato il set di penne predefinite e aggiunto nuove tipologie di penne. Inoltre, adesso gli schizzi fatti possono essere convertiti anche in forme. In definitiva, diventa sempre più difficile trovare delle mancanze in una suite così completa. Tuttavia, sono riuscito a scovare tre lati negativi di questa nuova versione di Office. Futura eliminazione di OneNote. L'applicazione di Note è rimasta quasi uguale alla versione precedente, semplicemente per il fatto che Microsoft ha deciso di puntare esclusivamente sull'app di OneNote. Di conseguenza, l'applicazione standard verrà abbandonata e aggiornerà non solo l'app. Un vero peccato, visto che all'app mancano ancora alcune funzioni e OneNote 2019 potrebbe essere ancora perfezionato ulteriormente. Abbandono di Publisher. Il buon Publisher è rimasto quasi uguale alla versione 2016 e non ne capisco il motivo. Soprattutto perché Publisher non verrà abbandonato come OneNote. C'è da dire che anche dalla versione 2013 alla 2016 non ci sono state grandi novità. Almeno Microsoft poteva integrare un paio di nuove funzioni di Word all'interno di Publisher. E invece niente. Si spera che non diventi l'ennesimo componente della suite eliminato. Dopotutto Publisher funziona tuttora molto bene per creare qualche semplice biglietto. Non supporta Windows 7. Non è un vero problema della suite ma di Microsoft perché vuole spingere ad usare Windows 10. Difatti alcuni sono riusciti a far funzionare Office 2019 anche in Windows 7. Ma tanto a breve 7 non sarà più supportato. In conclusione Office 2019 ha davvero portato un buon numero di nuove funzioni e miglioramenti pure in Outlook e Access. E sarà sempre più difficile per Microsoft inventarsi delle novità da introdurre nelle prossime versioni. Office 2019 merita, come la versione precedente, un bel 10. se vi è piaciuta la mia recensione mettete mi piace, iscrivetevi al canale, guardate qualche altro video e scrivetemi nei commenti. Ciao!